Hola 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 da un raffreddatissimo Max dei Berrofronzo sto facendo questo episodio un po' particolare slegato un po' dalla successione normale delle cose che si fanno all'interno della mia registrazione di World of Warcraft perchè alcuni mi hanno detto com'è che si settano mi hanno chiesto di spiegare com'è che si settano i vari addon che io utilizzo per la mia sessione di World of Warcraft tanto per cominciare la sessione di World of Warcraft è incentrata sulla patch 3.5a se non ricordo male e praticamente tutto quanto l'intero pacchetto di mod è trovabile all'interno della nostra pagina di facebook che è linkata, non so cosa vuol dire che è diciamo linkata, si, allora è la nostra pagina di facebook scusate se è stato interrotto che è visualizzabile nella descrizione sotto questo video quindi per cui volendo tipo andate lì lo installate all'interno della cartella addons che dovrebbe essere presente all'interno della vostra cartella di World of Warcraft e se non c'è dovreste poterla creare voi e dopo ci sbattete dentro sto pacchetto che tra l'altro non mi ricordo neanche se lo dovete spacchettare ma penso di sì cioè tipo fate destro, estrai qui e bobo la schermata iniziale che vi viene è questa qui intorno avete tutte quante le stronzate che volete la cosa principale è il fatto che qui intorno a questa mappetta tonda avete chiedo di nuovo scusa per il raffreddore so che è ridicolo da sentire però oh se non l'ho messo così intorno a questa mappetta ci sono tutte quante le interfacce tutti quanti i pulsantini per poter accedere rapidamente a tutte quante le impostazioni di ogni singolo addon una delle più importanti è bartender se voi cliccate qui su bartender con il tasto sinistro vedete che tutto quanto diventa verde quindi per cui voi potete semplicemente trascinare letteralmente con il tasto sinistro tutte quante le varie barre che vi vengono fuori e che saranno quelle dove voi inserirete in seguito tutte quante le vostre spell semplicemente trascinandole dall'interno dei vostri menu verso le cose io mi tengo qua in alto questo micro menu questo qua piccolino non mi ricordo da dove viene fuori dalla deadly boss non lo so comunque dovreste avercelo anche voi semplicemente si trascina tutto quanto con il tasto sinistro e il mouse tutte quante queste interfaccine qua qui c'è la pet bar la mettiamo qui mentre questo qua che fa parte dell'healbot di nuovo lo si trascina cliccando con il sinistro sul tab vicino al tastino options e portando solo dove cacchio ci pare questo qua non ho idea di che mod sia e questo qua dovrebbe essere sempre del vanilla oppure non lo so quando abbiamo finito di sistemare tutte quante le nostre cose mettiamo semplicemente lock sempre nello stesso bartender è possibile premere destro e ogni tipo di barra è personalizzabile secondo quello che si vuole come scala come grandezza come numero di righe come numero di colonne facciamo un esempio se io volessi una settima barra la potrei mettere con una scala un poco più ampia per esempio scala 2 vuol dire che è più grossa del doppio rispetto a tutto quanto quello che c'è qui voglio avere dunque alfa on the bar questo non lo so qui posso mettere praticamente le padding che so che cazzo significhi buttons significa quanti bottoni voglio che ci siano all'interno della barra possiamo metterne non so 6 rows vuol dire quante colonne per cui per esempio mettiamo 2 horizontal growth non so che cazzo significhi comunque insomma qui ci sono le come si chiama le ah no ecco vertical growth e horizontal growth vuol dire la successione delle spell quindi 1,2,3,4,5 questo qua identifica se vogliamo che vadano dall'alto verso il basso e questo qua se da sinistra verso destra una volta che l'abbiamo creata possiamo fare close e se noi riclicchiamo con il sinistro vediamo che c'è questa barra che è più grossa del doppio del normale che è qui e noi ci possiamo mettere dentro tutte quante le varie cose dato che però a me non interessa assolutamente un cazzo di questa barra numero 7 semplicemente la disablo cliccando con il tasto sinistro qui naturalmente ogni tipo di barra ha anche questi sottomenu che non saprei dire esattamente a che cosa servono però è una cosa che voi potreste anche vedere diciamo così empiricamente comunque il senso è nel momento in cui avete finito tutto quanto si preme lock e vaffanculo questo qua è semplicemente la vostra riga che dovrebbe esservi cioè è una cosa che vi permette di trovare rapidamente all'interno della mappa questa qua tutte quante le varie quest quindi questo qua per esempio per il food and drink questo qua è per se ci sono i class trainer che per esempio in questo momento è qui dentro e cose di questo tipo qua poi vediamo questo qua che si apre con il tasto destro se no mi sta crashando l'intera istanza è l'enchantrix che in teoria serve per non lo so questo qua dovreste lasciarlo lì com'è ed è semplicemente quello che vi dice cioè vi aiuta nel caso voi aveste come professioni enchanting ed è quello che vi aiuta praticamente a guardare se una cosa viene disenchantata che tipi di polvere dà il livello come si chiama il livello dell'oggetto che voi state visualizzando e cose di questo tipo qua lo potete trascinare abbastanza tranquillamente poco più in là questo della carbonite è una cosa alla quale potete accedere in qualunque momento però questo qua cliccandoci con il tasto sinistro semplicemente fa apparire e scomparire questa mappetta che io di solito tipo chiudo questo qua e mi metto qui sopra aspetta un attimino che tento di naturalmente qui c'è ve la potete aggiustare con il tasto sinistro come dimensioni come cazzo vi pare da dunque warehouse favorites combat events boh cliccando qui con il sinistro qua sulla guide potete accedere a tutti quanti sotto menu che riguardano la carbonite che è quella là che io utilizzo spessissimo per esempio io voglio sapere dov'è la persona che mi insegna enchanting più vicino clicco con il sinistro su trainer vado su enchanting che è qua sopra no su engineering ho cliccato però praticamente se io clicco sull'immaginetta non sul nome ma sull'immaginetta qua sopra vedete che c'è tutta quanta la successione con la freccina anche di dove si vuole andare quando abbiamo finito semplicemente clicchiamo con il sinistro e boom un'altra cosa molto importante che vediamo se la trovo no questa è la deadly boss mods che anche questa qua ha vari tipi di opzioni che però non saprei dirvi a che cazzo servono e adesso io sto cercando un'altra un altro addon molto importante che però non ho idea di dove cazzo si è finito questo il calendario dove cazzo è finito sarà questo? sarà questo? sì questo qua l'Xperl questo qua l'Xperl che è quello là che vi permette di regolarvi tutte quante le le persone che avete in parti qui in alto a sinistra e anche lì non c'è molto da dire nel senso che tutte quante le personalizzazioni sono estremamente perdonate il gioco di parole personali tutti quanti questi sottomenu vi permettono di accedere alle varie cose che riguardano il vostro gioco e tutti quanti questi tick e queste barre significano semplicemente quanto volete che siano visibili all'interno della vostra interfaccia player logicamente è quella che riguarda voi quindi decidete se visualizzare o no il ritrattino in 3D vedete che qua sopra c'è il ritrattino in TD ma se lo disattivo viene fuori solamente l'immaginetta extended portrait non ho idea di che cazzo significhi heat indicators c'è la cast bar che significa semplicemente quella barra che viene sotto al nome per indicare la successione di quando stiamo per castare qua se vogliamo che venga visualizzato vedete qui sopra il livello l'icona della classe che è questa qua sotto e cosa di questo tipo qua healer mode questo non c'entra assolutamente un cazzo però niente di particolare dopo di comunque di quella là c'è la barra del pet che in questo momento noi non abbiamo ma dovrebbe essere questa qua e anche questa qua tutte e quanti questi sotto menu e dopodiché c'è quella là del party che è un poco più grassa però anche qui quello su cui si può giocare è questo valore qua che è per esempio quanto vogliamo che diventi importante o influente all'interno della nostra della nostra cosa nel momento in cui a voi avete questo menu della Xperl aperto potete con il tasto sinistro cliccare e portare in giro praticamente tutti quanti i vostri menu e sotto menu una cosa molto importante oltre al party che appunto è questa questa interfaccia qua che è il riassunto delle persone che sono all'interno del vostro party è questa qua che è quella del ride che è visualizzabile in questo punto qua anche qui ci sono varie possibilità se si vuole dare un ordine se si vuole dare una precedenza e cose di questo tipo qua e basta così in pratica una volta che avete finito dovrebbe salvarsi il tutto automaticamente ultima cosa che vi posso dire è che qui questo menu show party quest questa cosa evidenziata significa che qui nella mappa della Carbonite vengono evidenziate anche le zone del party nel quale voi siete mentre se lo disattivate vengono fuori solamente quelle vostre se voi no queste qua le priorities non c'entra un cazzo il menu vabbè questo qua è il menu interno di questo di questo don qua che ha un'idea di come funzioni questa qua è una donna nuda che va in giro ah questa qua è la patata tra l'altro probabilmente comunque al di là delle stronzate è così poi altra roba che si qua vabbè se si vuole minimizzare o se si vuole alzare però non posso più accedervi quindi boh eccolo qua e ultima cosa è l'healbot l'healbot è la cosa che serve di più agli healers alle persone che vogliono curare e si personalizza semplicemente premendo options questo qua è per abilitarlo o disabilitarla le spell sono messe in questa maniera qua questo qua ogni vostra spell è possibile personalizzarla secondo una combinazione di di tasto destro sinistro centrale bottone 4 5 6 eccetera eccetera e dire se la spell volete che parta quando il pulsante lo premete oppure lo rilasciate qui ci sono tutte quante le spell che potete che potete come si dice che potete che potete oddio che cazzo ho premuto che potete fissare all'interno di questo di questo coso per esempio qua c'è il c'è il serial questo qua ah vabbè perché io non ne ho ancora non ne ho ancora imparata nessuna però in teoria cliccando all'interno di questo sottomenu ci sono tutte quante le vostre spell che potete fare quando volete fate click e qua sopra è identificato il pulsante che vi premete con la tastiera nel momento in cui volete che questa spell vada quindi se io faccio semplicemente click sul nome fa l'essereal se faccio shift più click fa il binding il se faccio ctrl click fa l'abolish disease alt click ctrl shift click shift alt click e ognuna di queste è possibile personalizzarla anche per il tasto centrale del mouse o per il destro quindi in teoria potete avere qualcosa come 18 spell a portata di mano semplicemente con il ctrl shift alt e i tastini del mouse che alla fine non penso che ve ne serviranno più di 18 fate conto che voi league of legends ne usate 4 questo gioco è chiaramente più complicato però insomma avete capito più o meno come tira l'aria in teoria e so che sto per suicidarmi da solo se avete bisogno di qualche tipo di chiarimento la come si dice la la tavola dei commenti serve per questo spero di essere stato piuttosto esauriente per quanto riguarda questi cazzo di addons considerato che non l'altro è rimasto da dire da Max dei Berro Fronzo adios a todos grazie a tutti